Nella lezione precedente abbiamo raccontato il punto di vista di Schliemann sulla scoperta del tesoro di Priamo. E quindi questo lungo resoconto che lui fa di questa scoperta, oggi vorrei entrare nei particolari di questo racconto per sottolinearne le numerosissime contraddizioni. Contradizioni che sono molto interessanti perché ci consentono veramente di penetrare non soltanto nel cuore della vera storia della scoperta del tesoro di Priamo, ma anche nel cuore della personalità del suo scopritore Heinrich Schliemann. Vi ricordate quello che diceva? Diceva che scavando ai piedi della grande torre era aiutato dalla moglie la quale raccoglieva nel suo shawl man mano che venivano estratti dalle macerie lasciate dall'incendio delle costruzioni troiane, gli oggetti d'oro e d'argento che erano nascosti sotto al gigantesco muro che sopportava la torre. Ora, questo episodio è un episodio totalmente romanzato perché dalla lettura della corrispondenza di Evans sappiamo con certezza che il tesoro non è stato riportato alla luce in data 17 giugno 1873, ma bensì in data 31 maggio 1873. E pensate un attimo in una lettera che adesso vi leggo, spedita al direttore del British Museum, Schliemann si tradisce. In una lettera datata 27 dicembre 1873, egli scrive, a causa della improvvisa morte di suo padre. La signora Schliemann mi ha lasciato all'inizio di maggio. Il tesoro è stato rinvenuto alla fine di maggio, ma poiché sto tentando di fare di lei un'archeologa, ho scritto nel mio libro che è stata presente e mi ha assistito nel prelevare il tesoro. Ho fatto questo soprattutto per rincoraggiarla e stimolarla perché in verità ha grandi capacità. Quindi, vedete, Schliemann in questa lettera al direttore del British Museum sottolinea due menzogne. La prima, che il tesoro è stato trovato alla fine di maggio e non il 17 giugno. La seconda, che contrariamente a quanto raccontato, la moglie non era presente, quindi non poteva ovviamente accogliere i tesori riportati alla luce nel suo shawl. Non è solo questo. Quello che non quadra è il racconto fatto da Schliemann. Ricordate quello che dicevamo l'altro giorno. Lui dice che a un certo punto ha visto nella terra tracce di oro, oggetti favolosi e quindi per paura degli operai turchi ha ordinato che si smettesse di scavare e quindi ha mandato tutti gli operai a fare colazione. Ora, nel 1875, quindi due anni dopo quanto scritto da Schliemann, un personaggio molto interessante, un noto antiquario che si chiamava William Borlase è andato a Troia per scrivere un articolo nel Fraser's Magazine e lui, questo Borlase, ha ovviamente bisogno di una guida per essere portato dai Dardanelli fino alla collina di Isarlick e fino allo scavo di Troia. E chi ingaggia come guida? Ingaggia come guida quello che è stato il domestico e il fedelissimo capomastro di Schliemann, un tal Nicolaus Zafiros Yanakis. E, beninteso, questo Borlase vuole sapere dalla viva voce di Yanakis come è avvenuto questo straordinario ritrovamento dei oggetti favolosi che compongono il tesoro di Priamo. Borlase scrive «I dettagli della scoperta riportati da Yanakis sono così profondamente diversi dalla relazione del signor Schliemann che mi pare davvero impossibile conciliare le due versioni». Per citare un solo esempio, il signor Schliemann dice che mentre faceva questa scoperta, mandò tutti i suoi operai a pranzo e scavò i reperti da solo, aggiungendo che sarebbe stato impossibile per lui rimuovere tutti questi oggetti senza l'aiuto della sua cara moglie che stava accanto a lui, pronta ad avvolgere i reperti nel suo scialle e a portarli via. Yanakis, d'altro canto, mi disse che aveva assistito allo scavo e al trasporto dei reperti a casa di Schliemann. Alla mia domanda circa la parte avvenuta dalla signora Schliemann aggiunse non era qui, era ad Atene in quel periodo. Questo fu confermato da una mia indagine successiva fatta ai Dardanelli. Allora guardate, abbiamo qui sotto gli occhi le contraddizioni, parleremo del luogo di ritrovamento, parleremo dei candidati all'acquista del tesoro, ma parliamo, e parleremo anche del tesoro di Priamo Mosca, ma parliamo del luogo di ritrovamento e soprattutto di questa immagine che è totalmente falsa. L'immagine della moglie di Schliemann coperta con i gioielli di Priamo è un'immagine che è stata fatta certamente a posteriori, probabilmente come vedremo quando il tesoro fu mandato ad Atene. Ma torniamo alle contraddizioni e soprattutto al problema che si è posto con il governo turco. Cosa ha fatto Schliemann? Schliemann ha scoperto questo tesoro e prima di fare questo scavo aveva firmato un accordo col governo turco che diceva testualmente due cose. Uno, che la metà dei reperti provenienti dello scavo erano automaticamente proprietà del governo turco. Due, che l'altra metà che poteva essere e diventare proprietà dell'archeologo, qualora dovesse essere venduta, doveva tassativamente essere venduta in Turchia. Quindi l'accordo è molto chiaro ed è questo accordo firmato da Schliemann che gli ha consentito di condurre le sue ricerche a Troia. I turchi però non si fidavano molto di lui e in particolare avevano messo alle calcaglie di questo Schliemann, il ruento e un po' pericoloso, un ispettore che si chiamava Amin Effendi. Cosa racconta Schliemann? Dice che doveva a tutti i costi cercare di eludere la sorveglianza di Amin Effendi, perciò dice l'ho fatto ubriacare, dice letteralmente in una lettera l'ho imbottito di cognac, in un'altra lettera dice una cosa diversa dicendo e scrivendo che Amin Effendi, mentre lui scavava il tesoro di Priamo, Amin Effendi era occupato su un altro cantiere e questo è molto probabile, perché? Perché Schliemann scavava ovviamente con tantissimi operai e aveva aperto molte trincee sulla collina di Isarlick e quindi il povero Amin Effendi doveva controllare tutta una serie di cantieri ed è probabile non che sia stato ubriacato da Schliemann ma che nel momento della scoperta lui, Amin Effendi, si trovasse su un altro cantiere impegnato a seguire il riportare a luce di altri reperti da parte di altri operai. Ma Schliemann che si è comportato in modo così leggero e disonesto col governo turco, cosa intende fare di questo tesoro e perché ha cercato di eludere la sorveglianza di Amin Effendi? È veramente un giallo che vi racconto. Troviamo una lettera di Schliemann al fratello del nostro Calvert di cui abbiamo parlato nella lezione precedente, il fratello di Frank Calvert che si chiamava Frederick Calvert. Cosa dice in questa lettera il buon Schliemann? dice, sono desolato di informarla, informare quindi Frederick Calvert, fratello di Frank Calvert, sono desolato di informarla che sono sotto stretta sorveglianza e che l'ispettore greco, turco scusate, è molto arrabbiato con me e aggiunge, non so per quali motivi, ad ogni modo perquisirà la mia casa domani, perciò prendo la libertà di depositare presso di lei, cioè nella fattoria di Frederick Calvert, sei casse e un baule, pregandola di chiuderli a chiave e di non permettere per alcuna ragione ai turchi di toccarli. In cambio, ho grande piacere di inviare a sua moglie la mia parte di tutto quello che è stato trovato quest'anno nel terreno di suo fratello. Ricordate che Frank Calvert aveva comprato la metà della collina di Isarlick. Lei si ricorderà che tra le cose da distribuire vi è una splendida a mano di Minerva e una grande quantità di monete. Vi sono anche due teste femminili in terracotta che sono veri e propri capolavori dell'arte ellenistica. Gli abitanti del villaggio mi tradiscono con il turco al punto che non posso più usare i loro cavalli. Perciò, quando avrò bisogno di riprendere i panieri, quindi i panieri che lui manda nella fattoria, che sono, ripeto, sei casse e un baule, quando avrò bisogno di riprendere i panieri, la prego di lasciarmi tre cavalli per tre ore durante la notte. intende riprendere questo bene durante la notte per non farsi notare dai turchi. Le sarò estremamente grato di questo suo aiuto e le darò per ogni cavallo quaranta piastre. La prego di non rifiutare perché sono alquanto disperato, avendo speso qui più di centomila franchi, non posso portarmi via un po' di ceramica rotta. Altro che ceramica rotta, è evidente che in quelle sei casse e in quel baule ci sono tutti gli oggetti del tesoro di Priamo. E vediamo quali sono questi oggetti. Andiamo avanti qui per avere una breve idea di questi tesori da lui riportati alla luce. Abbiamo visto l'immagine di Sophie Schliemann con il famoso diadema poggiato sulla testa, probabilmente quando già il tesoro stava ad Atene e con le collane strappate alla terra ai piedi di quella famosa torre di cui parlavamo. Guardate alcuni dettagli di questi diademi, questi oggetti di oro puro straordinari. Eccoli qua. Questa coppa fantastica, una salsiera in oro, che Schliemann ha avvicinato dal punto di vista filologico al famoso Depas Amphikipelon, citato nell'Iliade, cioè il vaso con due becchi. È un oggetto di oro puro, pesantissimo, che è chiaramente uno dei grandi capolavori dell'oreficeria del terzo millennio avanti Cristo. Ecco la base di questa salsiera in oro. Vedete che finezza nella lavorazione e quanto siano affascinanti questi oggetti. Altri dettagli degli orecchini, orecchini in oro, con queste immagini molto stilizzate di quella che era probabilmente una divinità femminile. Guardate altri orecchini in oro. Un meraviglioso oggetto che serviva chiaramente a sua volta come orecchino d'oro, una spilla e una magnifica coppa in oro. Per finire con delle asce cerimoniali straordinarie, in giada, alcune sono in giada. Andiamo indietro. Vedete qui, questa a destra è in giada. Questa è di nuovo in giada, questa in giada a sua volta. Questa qua invece è in lapislazuli ed era ricoperta di oro. Queste tre asce cerimoniali non sono mai state utilizzate. Questa qua invece porta delle tracce di usura e verosimilmente era un oggetto legato a uno dei re di Troia, l'ascia del comando che era appoggiata ovviamente su un'asta e che nelle mani del sovrano era un oggetto sacro e prestigiosissimo. Tra parentesi, è molto interessante ricordare una cosa. Questo oggetto in lapislazuli è giunto a Troia al termine di un'odissea incredibile per il terzo millennio avanti Cristo. È un oggetto in lapislazuli. Ora, sappiamo per certo che l'unica fonte di approvvigionamento di pietre in lapislazuli era, ed è tuttora, l'Afghanistan. Quindi questo oggetto è giunto a Troia dopo un viaggio di migliaia e migliaia di chilometri. Ma teniamo ben presente una cosa, non è che l'ascia sia stata modellata in Afghanistan. No, il lapislazuli è giunto ovviamente sotto la forma di minerale nelle botteghe di Troia, è stato lavorato nelle botteghe degli orefici di Troia ed è diventato quel meraviglioso oggetto che abbiamo sotto gli occhi. Quindi vedete questa cittadella di Troia che comandava, come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, la rotta commerciale che portava verso gli stretti e verso il Mar Nero, era una cittadella interessata anche ai commerci su lunghissima distanza, in particolare ai commerci con il cuore dell'Asia, con l'Afghanistan. Del resto, sappiamo che dall'Afghanistan proveniva anche un altro minerale fondamentale per l'artigianato troiano e per l'artigianato egeo. Parlo dello stagno. Sappiamo per certo che lo stagno era fondamentale per fabbricare gli oggetti in bronzo, perché il bronzo è una lega di rame e di stagno. Ed è in Afghanistan, nelle miniere dell'Afghanistan, che le popolazioni egee del terzo e del secondo millennio avanti Cristo si procuravano sia il lapislazzuli sia lo stagno. E' molto interessante e anche in un certo senso commovente ragionare su questi commerci a lunga distanza, perché ci dimostrano come le popolazioni della protostoria, siamo all'alba della storia, la scrittura è stata inventata da poco, come le popolazioni della protostoria avevano già inventato un sistema di comunicazioni estremamente interessante ed articolato. Ad esempio, questi minerali che provenivano dall'Afghanistan dovevano seguire una rotta che poi dopo sarà anche in parte la rotta della seta, la via della seta. Scendevano con le carovanne verso il golfo arabo-persico, risalivano lungo il corso di due grandi fiumi, il Tigri e l'Eufrate, a un certo punto tagliavano una parte dell'odierno territorio siriano per approdare sulle coste del Mediterraneo. E sapete che esiste in un palazzo siriano del secondo millennio a.C., in una località che si chiama Qatna, esiste una tavoletta in scrittura con i formi che parla delle transazioni tra mercanti che negoziavano il commercio dello stagno e dell'apislazzuli e popolazioni egee. E la scuola creata a Qatna per facilitare gli scambi tra popolazioni del cuore dell'Asia e popolazioni egee era niente di meno che una scuola di interpreti allenati per questo tipo di transazioni. Siamo, nel caso di Qatna, nel secondo millennio a.C., però certamente situazioni del genere si verificavano anche mille anni prima nel terzo millennio a.C. Ora torniamo a una delle questioni che volevamo affrontare in questa lezione, quelle legate al luogo di ritrovamento del tesoro di Priamo. Secondo Schliemann, questo tesoro sarebbe stato ritrovato ai piedi della muraglia sotto la grande torre e quindi questo tesoro era collegato con il palazzo perché dice, ricordate quello che dicevamo, ho ritrovato una chiave, una chiave che serviva chiaramente a chiudere il baule nel quale erano conservati questi oggetti e questa chiave era vicina agli oggetti di oro, di argento e di bronzo rinvenuti sotto la grande torre. Quando andiamo poi a ripercorrere la corrispondenza o altri resoconti di Schliemann, notiamo che questo non è affatto vero perché la famosa chiave di cui lui parla è stata trovata a ben 150-200 metri dal luogo di cui parla. Allora perché ha cercato di imbrogliare inserendo questo particolare nel suo racconto? Credo che vi sia una spiegazione psicologica. Lui vuole a tutti i costi dimostrare che ha scoperto la città di Priamo. Alcuni, siamo nel 1873, alcuni credono a Schliemann, molti altri non credono a Schliemann. E per, in un certo senso, obbligare coloro che sono resti a credere al suo racconto, lui una volta in più forza la realtà e dice che qualora riuscissi a dimostrare che il tesoro è stato portato via dal Palazzo Reale, da qualcuno che fuggiva per cercare di scappare dall'incendio appiccicato dei Greci, allora avrei un buon argomento per far valere l'equazione scavo di Isarlik uguale cittadella di Troia. E questo è probabilmente il motivo per cui inventa questa cosa. Quindi, il tesoro, rileggendo la sua corrispondenza e soprattutto seguendo un lavoro molto accurato, fatto da Trell, il tesoro probabilmente è stato trovato fuori dalle mura della cittadella della famosa Troia II di cui abbiamo parlato ieri, la Troia del terzo millennio avanti Cristo, e verosimilmente, verosimilmente, questo tesoro, o parte di questo tesoro, faceva parte del corredo di una tomba principesca di inaudita ricchezza. Quindi, non erano oggetti, oserei dire, legati alla vita quotidiana che si svolgeva nella corte troiana, ma erano oggetti che erano stati sacrificati alla memoria di uno o più sovrani che avevano regnato sulla collina di Isarlik. I candidati all'acquisto. Qui è molto interessante ripercorrere questa storia, anche perché, in realtà, la dice lunga sul carattere spregiudicato di Schliemann da una parte, ma anche dei suoi interlocutori dall'altra. Quindi Schliemann, lo abbiamo lasciato, mentre depositava questi tesori in sei panieri e in un baule nella fattoria di Frederick Calvert, ovviamente con l'intento di portarli via dalla Troade, dalla Turchia. Ed è quello che fa. Riesce, effettivamente, a portare i suoi tesori ad Atene. e Atene si è fatto costruire una bellissima casa che esiste tuttora e lì da abile commerciante qual è tenta di negoziare l'acquisto, la vendita e l'acquisto da parte di Terzi del tesoro di Priamo. Si rivolge a tutta una serie di paesi. Prima di tutto si rivolge alla Grecia. È la situazione più semplice perché ovviamente già il tesoro si trova in Grecia e è più facile negoziare con le autorità locali. Lui scrive al direttore generale dell'antichità di Grecia e dice a questo direttore generale che è prontissimo a lasciare dopo la sua morte questo tesoro alla Grecia però che in cambio deve avere il permesso di scavare uno dei grandi siti greci da lui particolarmente corteggiati il sito di Olimpia. La Grecia è molto restia perché si rende conto che accettando di patteggiare questa cosa con Schliemann rischia di avvelenare i rapporti con la Turchia. I turchi hanno saputo del furto e i turchi sono scatenati hanno intentato un processo a Schliemann. Quindi la Grecia si defila. Schliemann è preoccupato. È preoccupato perché da una parte è nell'occhio del ciclone per via del processo che i turchi hanno imbastito e hanno intentato a Schliemann dall'altra è preoccupato perché lui ricordiamolo è un commerciante e quindi sente di aver in mano dei tesori straordinari che vorrebbe naturalmente realizzare e una volta abbandonata l'ipotesi di vendere questi tesori alla Grecia si rivolge all'Italia e in Italia scrive a Bianconi a Bologna dicendo sono ferito che i greci abbiano osato rifiutarmi Olimpia contro la volontà sovrana della nazione greca e dice allo stesso Bianconi penso di fare degli scavi a Palermo e a Napoli e il 24 luglio del 1873 scrive a Fiorelli direttore del servizio delle antichità d'Italia e tra parentesi scavatori di Pompei invece del privilegio degli scavi di Olimpia e di Micene il ministro mi ha mandato una decorazione il ministro greco che gli ho ritornata con indignazione mi sento sommamente offeso e voglio rompere con questo paese ingrato preferisco stabilirmi a Palermo e a Napoli gli italiani a loro volta di fronte a questa offerta di negoziare l'acquisto del tesoro di Priamo gli italiani a loro volta sono perplessi perché appunto c'è una causa con la Turchia dicono di no si rivolge alla Francia alla Francia perché? perché è amico tra parentesi di Burnouf che è direttore della scuola archeologica francese di Atene dove tra l'altro prima di giungere a casa di Schliemann il tesoro è stato depositato per un certo periodo e qui di nuovo comincia un tiro e molla molto complesso con la Francia e alla fine alla fine i francesi anche loro spaventati dal carattere di Schliemann e soprattutto dalle ripercussioni internazionali che il tesoro potrebbe che l'acquisto del tesoro potrebbe avere si defilano si rivolge poi all'Inghilterra e propone di vendere la sua collezione troiana al British Museum scrive a Charles Newton sempre nel luglio del 1873 che è pronto a dare tutto all'Inghilterra e devo dire che in una prima fase l'Inghilterra è abbastanza propensa a accettare Newton si reca ad Atene intorno al 20 dicembre 1873 e in realtà è il prezzo che sembra esorbitante il prezzo sembra esorbitante e Schliemann non riesce a convincere l'inglese a sborsare quello che lei chiede quindi crollano anche ovviamente le trattative con l'Inghilterra dopodiché rimane un solo paese al quale proporre il tesoro e questo paese è la Germania lui incontrea Bismarck lui dopo un tiramolla molto lungo con la Germania decide di cedere il tesoro di Priamo al Museo di Berlino e il tesoro di Priamo tra il 19 e il 23 luglio del 1881 approderà a Berlino dove verrà esposto fino al 1939 1939 data tragica nella storia d'Europa e del mondo cosa succede? Succede che scoppia la seconda guerra mondiale scoppia la seconda guerra mondiale e ovviamente la Germania pensa anche a proteggere da eventuali bombardamenti i più importanti dei suoi tesori d'arte il tesoro di Priamo che era conservato al Museo di Berlino viene imballato in varie casse e portato nel Flakturm Amso cosa significa? nel bunker dello Zoo di Berlino allo Zoo di Berlino c'era un bunker impressionante laddove era posta la contraerei tedesca e questo tesoro viene chiuso insieme ad altri capolavori nel bunker dello Zoo di Berlino cosa succede? lo sapete benissimo la seconda guerra mondiale insanguina tutto il mondo nel maggio del 1945 l'armata rossa è ormai alle porte di Berlino il primo maggio del 1945 due sergenti dell'armata rossa Egorov e Cantaria riescono mentre si continua a combattere a Berlino riescono a issare la bandiera rossa sul Reichstag distrutto Berlino è ormai nelle mani dell'armata rossa e comincia ovviamente una trattativa con i difensori superstiti di Berlino il generale Konef che comandava una delle armate che si erano impadronite di Berlino il generale Konef a un certo punto arriva con le sue truppe di fronte al bunker dello zoo di Berlino ormai i cannoni sono silenti e lui chiede ai suoi soldati di sfondare le porte del bunker dello zoo di Berlino entra in una specie di caverna di Alibaba cosa c'è all'interno all'interno ci sono tesori incredibili incredibili provenienti anche da tutti i musei da tutti i paesi che sono stati occupati dalle armate tedesche e vi sono anche delle casse che lui fa aprire vede che all'interno di queste casse c'è dell'oro Konef ovviamente non capisce di che cosa si tratta manda un telegramma a Mosca chiedendo a Mosca di inviare degli storici dell'arte degli archeologi per fare un inventario di questo straordinario patrimonio che era nascosto nel bunker dello zoo di Berlino Stalin e il comitato centrale mandano alcuni storici dell'arte tra cui probabilmente Irina Antonova l'attuale direttrice del Pushkin fanno un inventario si rendono conto che lì vi sono in mezzo a tanti altri tesori provenienti da tutta Europa le casse che contengono il tesoro di Priamo e i russi si impadroniscono di queste casse per molti anni fino al 1996 non si sente più parlare del tesoro di Priamo molti sono convinti che è scomparso per sempre che è stato distrutto nell'incendio di Berlino nei bombardamenti che hanno devastato la capitale del vecchio Reich quando a un certo punto Boris Yeltsin che era allora presidente fa un viaggio in Grecia e dopo un pasto particolarmente innaffiato da ottimo vino greco barcolando si alza e dice a Melina Mercuri che era ministro della cultura vi do una bella notizia siamo noi che abbiamo il tesoro di Priamo il tesoro di Priamo sta al Pushkin e faremo una grande mostra internazionale per far vedere al mondo che abbiamo custodito per tutti questi anni uno dei più grandi patrimoni dell'umanità attualmente il tesoro di Priamo sta al museo Pushkin continua a essere conteso tra la Turchia e la Germania secondo il mio modestissimo parere rimarra ancora molto a lungo a Mosca nel Pushkin dove è possibile ammirarlo e dove certamente chi ha la fortuna di vedere questi gioielli ci si può commuovere di fronte alle testimonianze della Troia del terzo millennio avanti Cristo che ha la fortuna che ha la fortuna